Eccoci qui a Piombino con Paolo Vegliò, un grandissimo pilota, costruttore e istruttore di droni e possiamo dire anche che da pochissimo hai ricevuto un premio veramente importante e quindi ti lasciamo la parola e poi ci parlerai ovviamente di questa anteprima di questo film che deve uscire a brevissimo. Sì, in questo periodo ho tante soddisfazioni, siamo riusciti con le scuole superiori a vincere una bella gara di robotica qui a Piombino e adesso sta per uscire in anteprima il 25 di ottobre il mio film Lucumon qui al Cinema Teatro Metropolitan a Piombino. Un film ovviamente che tu hai girato e ideato da un po' di tempo, però hai girato in breve tempo, un cortometraggio però dura una ventina di minuti, no? Sì, è un cortometraggio dalla durata di 20 minuti con la regia di Demetrio Caracciolo dove ci sono anche, sicuramente la parte vincente è quella, dove ci sono attori di fama nazionale come Costantino Comito, come Mario Diodati e altri, Tullia Linardo e altri, ora non posso dirvi tutti i motivi. Certo Paolo, e tu ovviamente sei esperto in droni, in costruttore eccetera, raccontaci un po' di questa tua attività. Beh sì, una passione nata tanti anni fa per il volo, io sono anche paradutista e quindi ho sempre amato il volo e questi droni ti permettono non soltanto di fare delle belle e ottime riprese ma riescono anche in qualche caso a salvare delle vite. Quindi questo ci appassiona sempre di più, quindi è una nuova scoperta di nuove tecnologie e quindi andiamo avanti così. E come istruttore tieni i corsi in tutta Italia e non solo? Sì, in tutta Italia, sì, perché andiamo in giro, abbiamo un campo anche a Campo Calabro, in Reggio Calabria, a Scarlino, vicino l'Aquila, a Cona e quindi sì, possiamo dire quasi in tutta Italia. E in genere chi è che vuole imparare a usare, a pilotare questi droni? Ma guarda tutti, dai ragazzi agli architetti, ai geometri, tutti, tutti, anche le ragazze. Ecco, soprattutto, ti piace questo genere di fauna. Allora Paolo, quindi in prossimità di questo Lucumon, diamo il benvenuto a tutti quelli che vogliono venirti a vedere, ad applaudire, perché io l'ho già visto in anteprima, insomma, almeno il teaser, il trailer c'è già, e quindi diamo l'appuntamento il 25 ottobre a Piombino. 25 ottobre a Piombino, a Teatro Metropolitano. Bene, così ammirerete il lavoro non solo di Demetrio, ma anche di Paolo Vegliò. Grazie, ciao.